Ricordo di una donna veramente straordinaria, un punto di riferimento per tutti, per tutti noi, per la sua forza, la sua tenacia, il suo coraggio, la sua passione. Ci mancherà molto, negli ultimi tempi siamo stati molto vicini perché sapevamo che nonostante la consapevolezza della sua malattia continuava tutte le attività possibili, quelle che poteva fare. Un pensiero che lei possa abbracciare Paolo, Agnese, Giovanni e Francesca e dire che noi continueremo, non ci fermeremo per la ricerca della verità e della giustizia.